Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo video dell'impero delle tenebre quest'oggi facciamo l'unboxing di un Mechacolle, ovvero un Mechanic Collection dedicato alla linea di Ultraman si tratta del numero 4, ovvero il Science Special Search Party SubVTOL praticamente l'SSSEP SubVTOL, ovvero il mezzo a decollo verticale con possibilità anche di andare sott'acqua che si vedeva nella classica serie di Ultraman degli anni 70 si tratta di un kit di piccole dimensioni infatti la confezione sta tranquillamente in una mano ha come tutti i vari Mechacollection la particolarità di avere le istruzioni stampate direttamente nella confezione mentre nel fondo c'è le avvertenze del manuale si tratta di pochi pezzi ma con un discreto valore tecnico infatti nonostante il prezzo molto economico si va intorno ai 600 yen il kit è previsto di decala d'acqua cosa abbastanza rara per un kit economico della Bandai ha una basetta dedicata appunto per tenerlo in sospensione e le parti sono in plastica metallizzata in quella plastica gloss lucida che dà l'effetto metallico con le parti diciamo rosse da incastrare al centro e soprattutto queste una cosa molto interessante per andare a costruire diciamo l'effetto dell'alettone questi infatti non sono adesivi non sono da colorare ma sono appunto questi pezzi che si incastrano e anche parte dell'alettone è già precolorato questo fa sì che il montaggio comunque sono neanche ventina di pezzi sia non articolato ma sicuramente molto più valido di quello che ci si potrebbe aspettare infatti con qualche decal si rifinisce il modello che ha un design comunque molto liscio appunto derivante dalla fantascienza arrotondata degli anni 70 ma comunque vanta una discreta qualità tecnica anche perché appunto ricrea perfettamente il modellino che poi viene lungo una decina di centimetri ha bisogno di pochissime altre rifiniture perché appunto la linea rossa e tutte le altre parti rosse in questo modello sono realmente pezzi di plastica colorate quindi non ha bisogno di colorazione che sarebbe anche difficile farla a mano o anche con delle decal l'unica decal è per diciamo il simbolo a pentacolo della SSP e una cosa molto carina è che chi ama Ultraman può trovarlo davvero davvero gradevole si tratta appunto di uno di quei veicoli da avere in collezione a mio avviso se si ama la fantascienza è una di quelle astronavi appunto molto anni 70 in cui si prendeva spunto da aerei da shuttle e si andava a creare una versione fantascientifica che poi anche nel telefilm era effettivamente un modellino più grande sicuramente di questo però comunque aveva appunto un feeling notevole se amate la serie da Tsuburaya Enterprise o Production Production dovrebbe essere appunto ricordiamo che è l'autore di Ultraman ma anche il papà di Godzilla è anche di molta fantascienza che è andata poi ad contaminare anche manga anime e quindi ha un valore aggiuntivo a mio avviso questo kit è molto valido vi avevo già fatto vedere l'unboxing del Jet Vtol e gli altri invece mezzi sono diciamo ancora in cerca comunque penso più o meno di completare una collezione di questi veicoli questo è molto sorprendente perché grazie alle plastiche precolorate in realtà solo di due colori non necessita di grandi rifiniture andrò a colorare giusto i vetri perché appunto la vetrata ha bisogno di un minimo di colorazione ma per il resto direi che non ci sono grosse rifiniture da fare quindi è un modello adatto ai principianti è un modello facile da realizzare e di grande effetto ve lo consiglio se vi è piaciuto questo video condividetelo mettete un like se poi volete anche vedere come verrà realizzato seguite il blog imperodeletenebre.blogspot.com così da avere una recensione oltre a questo video unboxing per rendervi conto di com'è diciamo il model kit in sé io quindi per adesso vi saluto spero che questo video appunto vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo un po' Grazie a tutti.